Parzellettina piccola piccola mentre siamo qua a pulire un po' l'olto, allora che praticamente questo dottore che è primario in una clinica psichiatrica insieme agli infermieri va a fare le visite, arriva in una stanza e gli dice ma allora come sta il pettini? E guarda il pettini non sta mica tanto bene anche con le nuove medicine, è sempre lassù, si crede di essere il lampadario, poi andiamo a vedere, allora arrivano in una stanza e gli dice il dottore, l'infermiere, hai visto dottore? Cosa devo fare con il pettini? Lo faccio scendere? E no è che rimaniamo al buio! Ciao alla prossima!